Ben trovati voi tutti ad una nuova puntata di insieme oltre il 2000 abbiamo il piacere di avere con noi in studio Luciano Tuliniero che è il referente provinciale per AISLA, l'associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ben trovato Tuliniero, grazie per la sua presenza. Grazie a voi per l'invito. Per una presenza in occasione di una giornata che si è svolta proprio di recente, la vostra giornata nazionale il 18 settembre scorso, che ha voluto ribadire, riaccendere i riflettori, richiamare l'attenzione della cittadinanza, anche la cittadinanza bellunese su questa vostra realtà. Allora cominciamo proprio da qui, dal presentare AISLA. Che cos'è, che cosa fa, qual è l'obiettivo? Allora AISLA Belluno è un'associazione nata nel 2012 e fa parte di AISLA nazionale. Noi siamo nati nel 2012 dall'iniziativa di alcuni, tra cui sottoscritti alcuni volontari, il cui scopo è diretto ad aiutare i malati di SLA della provincia di Belluno e i loro familiari, perché l'aiuto non serve solo al malato, ma anche alla famiglia, in quella che è poi la gestione del malato, in quanto è una gestione molto complessa, tenendo conto del tipo di malattia. La nostra associazione quindi fa parte poi di AISLA nazionale, che ha sede un po' in tutto il territorio nazionale e da cui poi noi dipendiamo. Come AISLA Belluno siamo un'associazione che ha circa, tra soci sostenitori e soci attivi, quindi soci che poi partecipano materialmente a quelle che sono le attività dell'associazione, siamo circa 30. I attivi, diciamo operativi, siamo tra i 10-15 in base alle occasioni. E quindi sarebbe bello riuscire a incrementare il numero degli associati, ma speriamo che chi ha voglia di fare del volontariato e dedicarsi a un'associazione che opera in una malattia un po' particolare, è il benvenuto. Ecco, cogliamo proprio appunto l'occasione quindi per spiegare, permettiamo che lei non è un medico, quindi ovviamente è un volontario, però ci può presentare un po' questa malattia? Allora, la SLA è una malattia neurodegenerativa e colpisce i motoneuroni. È una malattia che all'inizio si presenta con dei sintomi che possono riguardare tipo o le braccia o le gambe, o anche la respirazione, la declutizione e così. Poi dopo, ecco, c'è una serie di diagnosi molto approfondite che permettono poi dopo il riconoscimento della malattia. È una malattia, come dice, neurodegenerativa che poi porta man mano all'immobilità della persona, quindi il cervello rimane funzionante fino all'ultimo momento, come pure la vista, però man mano il corpo si blocca e quindi alla fine ci si ritrova, il corpo diventa tipo una gabbia, non è una cosa molto bella, sinceramente. Grazie a Dio è una malattia che colpisce poche persone, infatti in Italia si parla di circa 6.000 casi, in totale con nuove diagnosi che vanno intorno a poco più di 1.500 all'anno. In provincia di Belluno ne abbiamo pochi, circa una quindicina, poi dopo il dato è sempre un po' difficile averlo perché per le questioni delle privacy, quindi noi riusciamo a avere questo numero un po' grazie alle collaborazioni che noi abbiamo con l'ASL e quindi soprattutto poi con le cure palliative sia di Belluno che di Feltre che poi danno una grossa mano. Ecco, ci sono delle indicazioni comunque sulle persone che maggiormente vengono colpite, se uomini o donne, anche da che età diciamo si iniziano a riscontrare queste problematiche? Sì, di solito tra i 50 e i 70 anni, però abbiamo casi anche di persone più giovani e di persone anche più anziane. La cura per ora ancora non c'è, recentemente si stanno sperimentando dei farmaci che stanno dando dei buoni risultati, però la cura non c'è. E qui comunque il valore della ricerca che anche ASLA sta portando avanti a livello nazionale. Infatti ASLA contribuisce notevolmente a quella che è la ricerca sulla SLA attraverso ARISLA che si occupa proprio della ricerca su questa malattia. E la giornata nazionale, infatti quella del 18 settembre scorso, ha avuto anche proprio questa finalità. Comunque l'obiettivo è la raccolta fondi, la beneficenza. Di solito la raccolta in questa giornata vengono offerte alle persone, dando un contributo di 10 euro, delle bottiglie di barbera d'asti di OCC. E il ricavato di questa giornata viene utilizzato per la ricerca, ma anche tenendo conto della situazione economica che c'è in questo periodo, anche per aiutare le famiglie che hanno un malato di SLA per quanto riguarda soprattutto i costi, perché tipo un malato di SLA nelle facce un po' più gravi è attaccato a dei macchinari. Quindi l'associazione dà dei contributi alle famiglie che ne fanno richiesta per un aiuto dal punto di vista anche economico. E diciamo, nel tempo, questa associazione è presente anche in provincia di Belluno da alcuni anni ormai, come si è evoluta? Avete fatto anche voi per esempio delle donazioni, immagino? Sì, noi, allora, tutto quello che noi abbiamo fatto in provincia, tutti i soldi che noi raccogliamo in provincia con le varie manifestazioni che abbiamo fatto, se vuole poi dopo le dico alcune delle cose che abbiamo fatto, quei fondi vengono utilizzati per i malati di SLA, direttamente, o per dare supporto, per esempio noi come associazione, principalmente, diamo supporto fisioterapico e psicologico. Infatti ogni anno finanziamo un progetto che presentiamo al nazionale diretto a poter pagare dei fisioterapisti che collaborano con l'ASL, laddove l'ASL non può andare perché i fisioterapisti, il numero di fisioterapisti sono quelli che sono, allora quando l'ASL non riesce arriviamo noi con il nostro fisioterapista oppure con la nostra psicologa. Quindi noi abbiamo queste due figure, in realtà fisioterapisti ne abbiamo due, uno che opera sul territorio feltrino e uno sul bellunese, vanno a casa delle persone a fare la terapia e quindi noi paghiamo questo servizio interamente e anche il supporto psicologico. Poi un'altra attività che noi facciamo, un'altra parte dei fondi che noi raccogliamo, vengono usati per donare delle aperchiature. Ultimamente abbiamo fatto dal 2016, che abbiamo iniziato questa nuova campagna, se si può dire così, abbiamo donato circa 60.000 euro di macchinari tra la casa di riposo di Belluno, l'ospedale di Belluno, precisamente il reparto di pneumologia e di gastroenterologia e sul feltrino al reparto di pneumologia. Attrezzature che comunque, ci tengo a dire questo, che vanno bene, vengono donate per aiutare i malati di SLA, ma sono delle attrezzature che vanno bene anche per chi ha altri tipi di patologie, perché tenendo conto che i malati di SLA non sono tantissimi e meno male, è bene che queste attrezzature poi vengono usate anche da altre persone che non hanno solo la SLA, anche perché io dico, visto che il contributo viene dato da tutti, è bene che se si può aiutare, aiutiamo un po' tutti. Quindi abbiamo visto ancora una volta, vista la difficoltà, comunque la problematica generale anche della carenza del personale sanitario, dei medici, degli operatori in generale, vediamo come il mondo del volontariato possa essere una spalla preziosa, insomma, a difesa, d'aiuto, ecco, della cittadinanza. Comunque adesso stiamo lavorando, sta partendo adesso una nuova donazione che verrà fatta in questo caso, perché poi cerchiamo di mantenere sempre un equilibrio tra Belluno e Feltre e quindi l'ultima donazione l'avevamo fatta all'ospedale di Feltre e adesso speriamo di riuscire entro fine anni, ma comunque entro poco, faremo una nuova donazione al reparto di pneumologia di Belluno di alcuni macchinari che ci hanno chiesto loro. Noi chiediamo cosa può essere utile, cosa può servire per un malato di SLA e che quindi poi comunque possa essere usata anche per un malato che ha qualche altra patologia e quindi stiamo adesso lavorando anche su questo. Quindi in base a quelle che sono le necessità concrete. Lei parlava infatti di apertura al territorio, di iniziative, di manifestazioni che consentono anche a voi la raccolta fondi proprio per arrivare a queste finalità di cui ci parlava, Tullimiero. Mi ha portato per esempio la locandina di un'iniziativa che insomma è all'orizzonte, la Corribes. Sì, noi collaboriamo da un po' di anni con gli organizzatori della Corribes e il ricavato di questa manifestazione che si riterrà quest'anno il primo novembre, tolte quelle che sono le spese, andrà poi ad Aisla Belluno. Però ricordo anche un'altra iniziativa che avremo il mese prossimo, che è la 24 ore di San Martino e questa noi la facciamo però in collaborazione con la Sportivamente Belluno. Quindi la Sportivamente Belluno farà la squadra per la corsa, noi come Aisla avremo uno stand dove faremo da mangiare, quindi chi ha voglia viene, mangia qualcosa e lascia un'offerta. Ecco, parlavamo comunque anche del periodo della pandemia. La pandemia inevitabilmente ha bloccato un po' tutto. Cosa ha rappresentato infatti anche per voi, per la vostra realtà? Per noi è stata veramente dura più che altro perché, soprattutto per i malati, perché anche i servizi che noi fornivamo, quindi sia il supporto psicologico perché quello fisioterapico è stato interrotto. Poi dopo un bel po' di tempo è stato ripreso con le dovute precauzioni che sappiamo tutti e quindi non è stato facile. Ma poi anche per noi stessi volontari, perché tipo io e qualche altro volontario andiamo anche a trovare a domicilio il malato, così, e quindi questo non l'abbiamo più potuto fare. si è bloccato un po' tutto. E poi dopo il problema qual è? Che anche i volontari, non partecipando più all'attività, il rischio è quello che non partecipando più all'attività di quella che è l'associazione, che quindi è un'attività continua e sempre in continua evoluzione, il rischio è quello che ci sia un allontanamento di quelli che sono i volontari e da quelli che sono l'associazione. E questa è una cosa che io, parlando con altre persone che conosco, in quanto sono anche in qualche altra associazione, questo è un po' stato il rischio. Però speriamo di riuscire ad andare avanti e che questa situazione finisca prima o poi. Ecco, e quindi proprio il caso concreto della ripresa delle attività e quindi della donazione di cui ci parlava. Direi che è il posto giusto comunque anche per lanciare un appello a qualche possibile volontario all'ascolto. Come si può fare anche per contattarvi, se qualcuno volesse così avere ulteriori informazioni su di voi? Allora, se qualcuno vuole diventare socio di Aisla Belluno, c'è un sito www.aislabelluno.it, la trova tutta l'indicazione, c'è la mail dell'associazione, c'è il numero di telefono a cui rispondo io e quindi chi ha voglia di entrare nel mondo dei volontariati, dare una mano, faccia questo, cioè vada sul sito e vede. Chi invece ha bisogno, perché il problema che c'è in provincia, se posso permettermi, è che tante persone che hanno questo problema hanno quasi vergogna a chiedere aiuto. Non bisogna vergognarsi, cioè è una malattia come tutte le altre e lo scopo dell'associazione è di dare una mano il più possibile ad affrontare meglio questo percorso. Però se uno non vuole rivolgersi a noi diretta media ma vuole maggiori informazioni, soprattutto poi di carattere medico, perché avere una diagnosi di SLA non è una cosa facile, perché, come ho detto prima, sappiamo a cosa poi porta una diagnosi di questo tipo, può contattare direttamente anche Aisla Nazionale, dove c'è un centro d'ascolto e lì uno può chiedere di parlare con un medico che ritiene in base al problema che ha il modo da avere un supporto, un'ulteriore voce. Un supporto più qualificato, noi diamo un supporto materiale, tipo mandiamo il fisioterapista, diamo una mano ai familiari per quanto riguarda la parte burocratica, diciamo anche. Milano invece dà un supporto, chiamando Milano, sia un supporto più tecnico e medico. Bene, allora abbiamo fatto una breve carrellata, una breve panoramica su quella che è l'attività di questa associazione. Luciano, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ovviamente il ringraziamento e il saluto va anche a tutti i volontari che animano proprio l'operato di Asla qui sul territorio provinciale bellunese. Grazie ancora Luciano Tulimiero. Grazie. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti.